Follow Me è la nostra realizzazione. Diciamo che mettiamo in primo piano l'essere seguiti. Oggi l'essere seguiti è importante per tutti quanti. Infatti, come potete notare dalla realizzazione, c'è al centro dell'opera una fashion blogger che ogni giorno invegna molto del suo tempo ad essere seguita, e appunto l'influence. Poi, diciamo, abbiamo al centro dell'opera anche una macchina con un autista in dentro a farsi i selfie, anche durante la guida. Questa, diciamo, è la novità del nuovo secolo. Arrivato a un certo punto possiamo dire anche che è il pericolo del nuovo secolo. Poi, a tutto ciò, paragoniamo un grande indiano come rappresentare la vecchia società, dove i principi della famiglia, i principi sociali, erano alla base di tutto. E ciò, a livello frattesco, abbiamo, diciamo, immaginato che l'indiano chiamasse in causa il proprio Dio Banesha, Dio della prosperità, Dio del bene, affinché ci possa indirizzare nella diretta via. In questo carro, diciamo, abbiamo impegnato più di 6-7 mesi di lavoro di 3-4 persone. Naturalmente è stato molto difficoltoso, soprattutto ciò lo facciamo con il piacere per cercare di con piacere chi ci viene a visitare nel nostro carnavato.